Amiche, ciao a tutte, la Tilly Fede, la vostra youtuber del cuore. Questo video è dedicato a tutte voi innamorate per questa fantastica serata di San Valentino da passare insieme al vostro grande amore. Ma l'amore è quello vero, eh? No che povera nanna del colpizzicare allo sotto casa, che non è cosa carina. Comunque, bando alle ciance, amiche, mi vedete così in questo look a quel sapone perché a breve vi mostrerò un tutorial per stupire il vostro ragazzo a avere un viso luminoso e truccato in maniera impeccabile. E allora cominciamo subito. Vi devi scegliere un bel colore che si vede e mettere in salto i vostri occhi. Un bel blu notte da applicare. Ecco, intingiamo bene il pennello, generosamente su tutta la parte mobile dell'occhio. Ecco, in questa maniera qua, che provo il blu poi, soprattutto se avete gli occhi chiari, amiche, è un colore che mette in risalto il vostro sguardo, rendendoli veramente meravigliosi e irresistibili. Ecco qua. Fantastico! Adesso, amiche, cosa si può fare di più per allungare il nostro sguardo? Ma naturalmente utilizzare l'eyeliner! Agitiamolo bene in modo che il liquido si mescoli. Attenzione, amiche, un trucco importante è rimanere attaccate alle ciglia. Vabbè, tanto poi alla fine col cotton fioc vado a togliere l'eccesso. Allunghiamo un pochino che fa l'effetto un pochino di notte. Eccolo qua, fantastico! Ecco, diciamo che lo sguardo è molto carico. Ecco, tanto poi magari l'eccesso col cotton fioc, ragazzi, o con eventualmente la salviettina lo andate a sfumare un pochino. Attenzione perché lo sguardo non è ancora completo. Dobbiamo andare a ridefinire le nostre sopracciglia, a coprire tutti i buchi che vi fate che vi pinzette perché non siete buoni. Allora, avremo bene la matita e andiamo a disegnare le nostre sopracciglia e cercando di seguire la lina naturale in questa, ecco, più o meno maniera. Ah, ecco. Insomma, diciamo che è un pochino un po' fortina, ma poi tanto alla fine uno ci prova sempre. Ecco, un po' più. Non mi fate però pericoli, mi raccomando. Cercate di mantenere questo spazio libero. Cercate di mantenere questo spazio libero. Ecco, così, proprio libero. Capito? Mamma mia, non vedo l'ora che vi fate sapere poi come va andata la serata. Ragazze, le vostre labbra devono dire basami, basami. E qual è il metodo migliore se non quello di utilizzare un bellissimo rossetto rosso fuoco lucido? Allora, attenzione a non sbordare, mi raccomando. Fate un boccuccio a cuoricino. Un po' più a cuoricino, almeno che si spalma bene il rossetto. Attenta, non mettevelo sui denti che è proprio una boiacata. Acca, occhio a non sbordare. Ecco, andiamo a mescolare il venino. Questo movimento qua vi aiuta a impastare bene il rossetto affinché duri per tutta la serata, anche se il vostro ragazzo vi bacerà continuamente perché con questo trucco questo accadrà, ragazzi. Eccoci qua. Allora, mi raccomando poi fatemi sapere commentate la serata, ti rifede la vostra youtuber del cuore, augurandovi ancora un grande San Valentino, vi abbraccio e ci vediamo presto. Ciao! Ciao! Ciao!